e ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo sbustamento o sbusta boxing siamo lì diciamo dove come potete vedere abbiamo queste ultra premium di charizard finalmente che sono uscite come vedete ce ne sono qui 4 ne andremo ad aprire solo una perché le altre le terreno intanto chiuse e ne avrò in realtà un'altra che da quanto so dovrebbe arrivarmi da un altro sito che quello aprirò però a parte ragazzi e che dire tutte prese dal stesso posto senza scalper e non è pubblicità ma sono loro quindi per una buona volta non sono stati loro i ladri battute a parte però sono arrivate le ho prenotate il giorno stesso mi sembra che le avevano annunciate che erano prenotabili quindi mi sono fiondato e tutto a posto da un lato per fortuna nonostante dovuto chiamare io per chiedere conferma se non arrivate mi ha detto sì le tue visto che le avevi ordinati perché sono già arrivate perché le altre arriveranno e già lì quelle arriveranno mi preoccupava e che dire ragazzi non perdiamoci in altre parole iniziamo subito ad aprirle queste secondo me fantastiche collezioni non vado matto per charizard però le promo che ci sono dentro ragazzi secondo me sono veramente veramente belle quello lo posso confermare secondo me adesso andremo a vederlo anche insieme questo ragazzi come vedete intanto è il fronte con il nostro lucertolone di colore argentato sul sfondo bianco qua tutto il colore è qua scritta spada e scudo qua dietro la sfera poche qua di nuovo spada e scudo e qua di nuovo un po i colori di charizard andiamo subito ad aprire ragazzi la nostra confezione quindi la nostra plastichina vediamo si fa un po di arm ok adesso che un po di asma nella plastichina così l'avrà fatto e togliamo il nostro cartoncino che un po resoconto e qua tutto quello che c'è ma non spoileriamo c'ero troppo ragazzi e mettiamo lì sopra e adesso forse lo vedete un attimino meglio con un po meno di riflesso dovuto dalla carta non sbagliamola troppo per non rovinarla vediamo un po come si apre qua c'è un magneto esatto per l'appunto si apre vediamo il v max di charizard da qua dovrebbero esserci tipo i cassettini come quella della ultra premium di gran festa credo vediamo un po qui cosa c'è credo sia tipo un poster questo non lo sapevo poster barro tappetino che è un tappetino molto bello che magari potrei anche usare per i video ragazzi guardate che bello quasi quasi prima a fare un change molto molto bello tappetino un po per mouse un po per giocare però appunto con le carte pokemon per fare i tornei ecco così abbiamo un po di sfondo e poi ragazzi un po nascosti in fondo i tre cassettini come vedete charger normale easy max e la sfera al centro qua scusate la tosse abbiamo il solito ho capito tutto librettino per solito istruzioni ispansioni male tutto quanto mettiamolo lì a parte cioè mi sembra qualcos'altro no in teoria non c'è niente e ragazzi vediamo un po i cassetti nel charizard base abbiamo la prima promo con il charger v alternative veramente bella con questo charger che mezzo riposa con il venusa in fondo molto molto bello vedo che dietro c'è anche il codice però vogliamo vedere un attimo nel dettaglio meglio abbiamo poi uno due tre quattro cinque sei sette otto pacchettini poi controlliamo sarà tutto giusto spillettina vi astro altri pacchettini quindi 9 10 11 12 13 14 15 16 spillettina con il charger v max carina chettini anche lì e nell'ultimo cassettino ragazzi un po sto dicendo un mano truffato va beh qua ci sono i portacarte e penso che qua ci saranno tutte si tutte le promo che insieme dadi dorati e segna danni sempre dorati di metallo quindi questo direi che potremmo anche metterlo da parte quindi ricaventuriamo i pacchettini ragazzi uno due tre quattro cinque sei sette otto 9 10 11 12 13 14 15 e 16 guardiamo se anche qua dietro confermano 16 corretto bustine protettive che poi useremo questo è la nostra box intanto mettiamo qui a lato ragazzi e andiamo a vedere le carte promo soprattutto vedo che c'è anche un codicino di alato quindi codicino diamo di e abbiamo ragazzi prima promo che dicevamo del charger v alternative molto bello dovrei mandare delle carte grado adesso e quindi mando già tutti insieme i chari da di max potremmo chiamare anche questo alternative molto bello molto gozilla gozilloso chiamiamolo questo forse un po' meno centrato sopra ahimè scusate la torse e il chari via astro chiamiamolo sempre alternative dove combatte con mewtwo questo forse già un po' più piuttosto iniziamo subito con i pacchetti in ragazzi a manetta e poi potremmo già aver concluso questo video che bello tutto colato con questo sfondo mi piace mi piace vorrei ricordarmi di giallo anche altre volte siamo subito ragazzi con il mio pacchettino di colpo fusione se non ricordo male è esatto pacchettino disintegrato codicino che mettiamo da parte 1 2 3 e 4 chissà quante poche robe troveremo energia foglia metapod superpass di lotta toghe de maru già ud si pede crefky fan sage ulu mari e c'è da qualcosa mi sa ragazzi studente full art alternative cammiano fuori serie e già il pacchettino non lamentiamoci dai secondo pacchetto di colpo fusione con il nostro amico genga in questo caso questo che venga il pacchettino è rimasto intattino mettiamo la sopra codicino da parte 1 2 3 e 4 a vedere quale energia psaico le dico capite guanti spugnosi turante panzer minun baltoi corso di galar i velta le sindres vi ragazzi una v normale altro pacchettino di colpo fusione se troveremo altri charizard specialoni magari charizard chiama charizard non sarà mai così sarebbe un box troppo fortunato mai dire mai nella vita ragazzi altro pacchettino codicino tricchettino e vediamo se qua c'è qualcosa energia acciaio primate simipur piglia mosche che per fortuna si stanno un po andando se guarda scarmori jinx mantine grubin e josk e grimsnar olio ragazzi poi andiamo subito di evoluzione etere con questo ombra sul pacchetto mamma mia povero povero ombra proprio disintegrato codicino da mettere via abbiamo 1 2 3 e 4 ovviamente non troverò niente di bello dove c'è roba più cicciosa ma va bene energia acqua nuslea daviari milo scraghi fletchling rosifleur carvagna un kabu guanti da scavo e shiftry normale raro neanche olio ma va bene stile di lotta dove anche qua il codicino e al contrario quindi io ci insuro fai da te così uno via tricchettino energia buio ragazzi blocco oggetti un crow it more blip bug espo frillish lo ricoli sponic condividi esperienza e tapu koko tapu koko vi mi ricordo quando c'era evoluzione quel periodo lì volevano anche parecchio tapu koko erano anche abbastanza rari andiamo con regno graciale ragazzi anche qua deduco codicino esatto spoilerabile quindi così tricchettino 1 2 3 e 4 no vedere subito cosa c'è ragazzi energia psaico sentirò bianca c ma quanti a giardinaggio le diane le diva quindi uno è la evoluzione dell'altro poi abbiamo il nostro cast form cast form forma sole yamask di galar wyrlix snover e e e e e cinderish holo di cinderish chiama cinderish in questo caso tra virgolette abbiamo poi ragazzi fiamme oscure dove come vedete c'è proprio il suo bracciali giard dove ovviamente non lo troveremo ma la speranza come dicono alcuni è l'ultima a morire abbiamo subito tricchettino 1 2 3 e 4 penso non ci sono niente energia terra spike vi parasec l'aero marip duklet clink grime wimpod l'arvesta e l'armanitan di galar mannaggia non deve essere un charger di galar poi abbiamo ragazzi fragole ribelli molto buone ma sono un po antipatiche battutona come solito qui codicino quindi anche qua anticensura 2 3 e 4 andiamo subito con energia acciaio ragazzi l'ombre in ira di galar durant stanchi grubbi wingul natu barboac sonia e geridos holo jarados holo mi direbbe qualcuno quindi niente di che poi abbiamo ragazzi origine perduta pacchettino stranamente salvato forse ragazzi non mi faccio si dice di asm perché devo andare un po veloce sto che erano tanti pacchettini e almeno anche abbastanza velocemente diciamo codicino qua abbiamo 1 2 3 e 4 un subito cosa troviamo qua energia foglia poliwyr liki liki mai sentito raricant gloria di sui si dot luma dainamo lite leo olivog e on crew neanche oro altro pacchetto di origine perduta con garde war a tirlo anche questo si è mantenuto stranamente codicino 1 2 3 e 4 e vediamo qui se c'è qualcosa che è un'altra via fu l'arte qua si stanno un po sprecando però vediamo magari sono riservata agli ultimi è un po una pecca che in questi pacchetti non è come un box normale non ci sono le carte diciamo garantite dovrebbero farlo visto che comunque li fanno pagare anche abbastanza potrebbero anche farla come cosa ma dettagli 1 2 3 e 4 scusate ma questa tutta se non mi sta abbandonando energia psaico piloswine poi e ammiga fu piena l'anno di alma sui l'anno di ucci e li fanno normale neanche oro abbiamo sempre luce in tetra siderale chi mai si potrebbe trovare codicino di censurato 4 energia acciaio distintivo scuro magneton parude bocca larga misdre avus barbocci ma nemmite piena l'alz sai dac reverse e arcanine anche quattro neanche oro scusate ho ottenuto carte schifose e mi viene la tosse sarà la rabbia dentro di me che vuole uscire mettiamo il codicino a parte uno due tre e quattro tricchettino abbiamo energia acqua drift blim usaring mire servirebbe alla mia gola in questo momento con un po di latte ivi eracross mantani qui fischi basculi e ammiga e almeno una oro ragazzi abbiamo gli ultimi tre pacchettini questo con arceus si potrà fortuna pacchettino mantenuto codicino uno due tre e quattro darsi qualcosa non credo ma sembrano rovinate ma invece sono fatte così energia elettro guanti da caccia we will faccio the den kubchou shinx perfect execute ora un guru alternative carino inferney polo carino questo belle belle non sapevo non mi ricordavo c'erano queste carte quindi anche tu rimani lì è molto bello poi abbiamo questo penultimo pacchettino non si è distrutto tutto ma non c'è il codice ma che cavolo uno due tre e quattro strano va bene elmo pentola cgd promozioni malfi mogre gibor tra la pinch execute starli rumish fraxure cosa c'è qua ragazzi premura di como pull art e un energia 1 2 5 6 7 8 9 10 11 c'era una carta in più un energia in più il posto del codice magari fatto apposta e ragazzi siamo qui con quest'ultimo pacchetto gli astri lucenti astri lucenti con i buoni salida che potrebbe chiamare un salisa credo proprio ma come ripeto sempre andrea prova a crederci mai dire mai come io credi nel cuore delle carte pacchettino quasi tenuto bene codicino 1 2 3 e 4 mi sembra aver sentito un po di ruvido e ragazzi speriamo energia fuoco 9 credo eccetera mincino baltoi snorunt no spaz che febo usi c'è ragazzi qualcosa e c'è il 1 2 3 4 5 6 7 carte ragazzi alla fine di più quindi non male ve le faccio rivedere un attimino tutte insieme abbiamo qui studente full art rainbow ex full art adesso rara segreta come volete chiamarla chiamarla cinderace vi tapu coco di zoro arc di i lui vi poi ora guru alternative molto carino premura di como full art rainbow come volete chiamarla e c'è il b full art e ragazzi questo è tutto come vi dicevo spero che questo video comunque vi sia piaciuto vi abbia fatto piacere avete visto un po cosa contengono le ultramiriam per l'appunto e ragazzi come al solito vi dico lasciare un bel mi piace qua sotto a questo video iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto condividere il video con i vostri amici così anche loro vedranno i contenuti sperando di portare fortuna anche loro perché comunque mi ritengo nella media fortunata dove potevamo trovare molto di più scusate è già descrizione con tutti gli incutili che vi lascio tutto commentare se anche voi l'avete presa e se l'avete aperta e cosa avete trovato noi ragazzi ci vediamo alla prossima con un altro video io vi saluto e ciao ciao